Una presentazione timida, quella della Fiorentina che ha avuto luogo stasera qui nel centro di Moena. Ad attendere la squadra di Paolo Sousa c'erano almeno 300-400 persone. Il pubblico era davvero caldo, non si può dire lo stesso dei giocatori che sono saliti sul palco. L'unico effettivamente a sembrare attivo e grintoso sembra essere stato Paolo Sousa, che alla fine si è anche permesso un bagno di folla nonostante la security avesse proibito un simile aria. Volevo dire il primo messaggio, vi ho sentito parlare di passaporti e di differenti lingue, noi abbiamo solo una lingua qua, è viola. La società torna a tranquillizzare i tifosi e lo fa con le parole di Vincenzo Guerini dopo quelle di Prade alla presentazione in santo spirito. Vedremo se i tifosi saranno ancora in grado di aspettare quanto succederà rispetto al mercato, visti tutti gli obiettivi sfumati e visto anche la mancanza di obiettivi concreti all'orizzonte. Buona permanenza, viate fiducia che faremo una buona squadra, è una buona andata, grazie. Il servizio vi ho offerto da Red Garter Firenze, questo è fiorentina1.com, ci sentiamo domani per il quinto giorno di ritiro a Moen.